Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, siamo tornati qui nei presti dell'area Exlebole, intanto abbiamo visto il lavaggio, l'autolavaggio abbandonato qui adiacente che da lungo tempo se ne era occupato il nostro, non l'abbiamo trovato acquirente per l'autolavaggio, se ne era occupato l'indimenticato Massimo Benigni, questa che era idea la sua trasmissione. Siamo tornati qui all'area Exlebole, intanto ti faccio vedere che qui è stato il degrado in Regna Impegante perché qui è stato dato fuoco, cosa c'era? Un bidone qui? La spazzatura di plastica sicuramente, le ruote sono rimaste, il resto è completamente bruciato. Tanto le fiamme avevano all'ambito anche quell'altro più grande. Poi dopo come vedi qui c'è l'abbandono totale, il degrado totale assoluto di un'area che ha fatto la fortuna della città di Arezzo. Siamo tornati qui, oltre che... A quest'ora qui c'erano file di pullman che uscivano per riportare le donne in tutte le vallate. C'erano file di pullman, allora non c'era il raccordo passando su la Fiorentina e a quest'ora era completamente intasata dall'uscita degli operai della Lebole. Questa fabbrica ha fatto la fortuna della città di Arezzo perché ha portato il secondo stipendio nelle famiglie. La donna andava a lavorare finalmente, portava a casa lo stipendio, con lo stipendio della donna si viveva e lo stipendio del marito si metteva da parte e si facevano investimenti. Questa è stata l'economia retina negli anni 60 e quello che ha fatto la famiglia Lebole per la città di Arezzo, che nessuno si deve dimenticare. Oggi purtroppo questo è il risultato. Siamo tornati qui tra l'altro per vedere che guardate tutti quei cartoni, a parte l'incendio che abbiamo visto prima, questi cartoni ammucchiati. Insomma per farvi vedere che la situazione ovviamente lasciandola in queste condizioni è quello che poi avevamo già mostrato che c'era dentro quando siamo andati dentro. Ora finalmente hanno chiuso, hanno messo ulteriori ferri da cantiere. Sicuramente ci sarà da qualche punto la messa doppia, speriamo che sia più difficile molto entrare. Comunque il colpo di scena, che poi è il colpo di scena fino a un certo punto perché siamo in Italia dove chiunque per motivi più o meno legittimi può fare un ricorso al TAR e al di là se il ricorso sarà fondato, sarà colto o no, intanto blocca tutto, in particolare in questo caso il progetto di riqualificazione soprattutto della parte della viabilità. Perché adesso c'è stato il ricorso al TAR. Di tre commercianti, quanto sembra, della galleria dell'Ipercoppa. Quindi adesso ci sarà la decisione del TAR, una volta avuta la decisione del TAR chi vince o chi perde sicuramente fa la ricorso al Consiglio di Stato e quindi si perde anni ulteriori in attesa di definire quest'area che veramente è la porta del CES alla città e è veramente inqualificabile tenerla in queste condizioni. Non so che tipo di interessi particolari ci possono essere in questo caso per far ritardare quest'area. Si dice che i commercianti si sentono danneggiati perché questa diventa una struttura concorrenziale molto vicina all'altra. Signori, l'abbiamo avuta lì per la concorrenza, quindi commercianti datevi da fare perché siete voi stessi con il vostro tipo di operare all'interno dell'azienda che prendete o perdete clienti, questo è evidente. Logicamente delle occasioni che poi molte volte così non è, soprattutto vedi i telefoni, Enel, Gas, questa libera concorrenza poi non ha portato a diminuzione, ma ha portato soltanto a confusione e i prezzi sono aumentati e quindi invece questo potrebbe portare questa libera concorrenza a far sì che i prezzi si calmerassero e quindi il cittadino potesse scegliere dove comprare, cosa comprare ai prezzi più vantaggiosi. Quindi, signori commercianti, datevi da fare perché sicuramente la libera concorrenza c'è, è sempre esistita e non è che con i ricorsi al tar si blocca perché tanto prima o poi si sbloccherà, anzi si acuiscono certe differenze, certe problematiche che poi in futuro possono anche danneggiare invece che far bene. Perché tanto comunque bloccano, al di là che anche se anche il ricorso non venisse giudicato, diciamo fondato, intanto bloccano però per due anni, per un anno magari, non so quanto sarà, però insomma ti blocca tutto. Quindi già si è perso tantissimo tempo, più adesso si continua, quindi direi che, non lo so, siamo in Italia, quindi non è che sorprende. Mi sembra un po' strano che per un interesse di questo tipo si possa bloccare un progetto del genere perché un conto, non so, poteva essere qualcuno che sta qui accanto, non lo so, ci possono essere vari motivi per cui ci può essere un interesse legittimo a fermare un cantiere. Abbiamo bar ogni 20 metri in città. Eh appunto, dico. Abbiamo bar ogni 20 metri in città. Cioè l'ipercoppa è vicina, ma poi fino a un certo punto. I cinesi, niente conto, aprono ovunque, negozi dappertutto, uno accanto all'altro, è purtroppo, questa è la libera concorrenza. Una volta non si sarebbe potuto fare perché la regione toscana aveva destinato a Arezzo tanti per i quali ipermercati, oltre a quelli non si potrebbe fare. Oggi queste legge non ci sono più, c'è il libero mercato assoluto. Sembra quasi che, nel senso, piaccia tenere più le cose così, lo solito stato scuola a Arezzo che non succede niente. Al di là che non siamo mai stati neanche troppo convinti del progetto, però diciamo che era l'unico che è stato portato... Abbiamo messo una ventina d'anni ad arrivare a questa soluzione, con la politica. Se adesso ce le mettiamo con le denunce in altri venti anni... Allora lasciamolo così. Facciamoci un'archeologia industriale. Facciamo una fantastia, abbiamo fatto un bel lavoro sui lanifici, hai visto i lanifici? Veramente quei musei molto belli. Qui c'è un bello museo, è un museo. Ciao!